Salve a tutti ragazzi, sono Scalella Armando, istruttore e coordinatore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Siamo nel periodo pasquale, oggi con voi andremo a preparare il casatiello. Elenchiamo subito gli ingredienti di cui avremo bisogno. 500 g di farina tipo 0, 00, l'importante è che non abbia un W superiore ai 300. 250 ml di acqua, temperatura fredda, ambiente. 100 g di olio extravergine di oliva, 10 g di lievito di birra secco e 15 g di sale fino. È molto importante che la fuoriuscita di questo impasto sia omogenea, liscia e fatta bene. Infatti se andiamo ad utilizzare un'impastatrice spirale, l'impastamento durerà più o meno dai 10 ai 15 minuti. Consiglio sempre di partire utilizzando per prima la farina. Piano piano si va ad incorporare l'acqua. Nel mentre che l'abbiamo messa tutta, quasi, quando è rimasta giusto un pochettino, aggiungiamo il sale e lasciamo che vada a sciogliere con l'ultima parte dell'acqua rimasta fino alla fine. Poi con un altro pochettino d'acqua, proprio un goccettino, andiamo a sciogliere il lievito di birra secco e lo andiamo ad aggiungere all'interno dell'impasto. Dopodiché andiamo ad aggiungere l'olio e lasciamo lavorare dai 10 ai 15 minuti. L'importante è che l'impasto fuoriesca bello liscio. Non c'è bisogno di un'impastatrice con velocità eccessiva in questo caso perché verrà fuori comunque una consistenza leggermente morbida, forse pochettino dura. Dipende soprattutto, ripeto, dalla farina che utilizzerete. Se seguite la ricetta ottenete una consistenza ideale e giusta del vostro impasto. Io consiglio sempre di utilizzare anche un piccolo pezzettino di pasta madre nella ricetta. Stasì, vi può essere utile perché vi dà veramente un gusto e un sapore molto più accentuato al prodotto. È anche una digeribilità migliore. Su 500 grammi di farina, 50 grammi di pasta madre. Rendono sempre molto molto meglio il nostro impasto. Nel caso in cui andiamo a lavorare con una planetaria, la stessa identica cosa è il procedimento di come ho spiegato prima per la realizzazione dell'impasto. L'importante è che fuoriesca bello liscio e omogeneo. È un po' difficile riuscire a sbagliarlo perché l'idratazione è molto bassa, quindi verrà fuori una consistenza, ripeto, morbida, leggermente dura, facile da gestire. L'importante è seguire i passaggi di quando aggiungere gli ingredienti come ho detto prima. E adesso lo ripeto. Anche per chi lavora impastando a mano, consiglio di partire dalla farina. Andiamo ad aggiungere l'acqua, quasi tutta, lasciandola sempre un po' per sciogliere il sale che andremo a mettere e per sciogliere il lievito di birra. Una volta messa parte dell'acqua, sciogliamo il lievito di birra e poi lo andiamo ad aggiungere all'impasto. Lasciamo lavorare qualche minuto fin quando non assorbe bene e poi aggiungiamo il sale con l'ultima parte dell'acqua. Prima vi ho spiegato che possiamo mettere anche il sale prima del lievito di birra. Non è un problema, scegliamo noi quando è un po' più comodo nel momento in cui andiamo ad impastare. L'importante è che ricordiamo di aggiungere il lievito di birra secco in questa maniera per ottenere uno sviluppo e una gestione molto più veloce del nostro impasto. Perché ne avremo bisogno soprattutto nell'ultima lievitazione che faremo all'interno del nostro stampo. L'ultimo ingrediente da aggiungere all'interno del nostro impasto sarà sempre il grasso per quanto riguarda questa tipologia di ricetta. Quindi che sia a mano sicuramente ci vorrà un pochino più di tempo. Però non è quello il problema, l'importante è seguire come aggiungere gli ingredienti fino alla fine. Ripeto, il livello di difficoltà è molto basso perché la consistenza, ripeto, verrà fuori morbida, leggermente dura. Fatto l'impasto e sviluppato una consistenza omogenea del lavoro nell'impastatrice a mano o planetaria andiamo a mettere il nostro impasto all'interno di un contenitore lasciandolo lievitare a temperatura ambiente per almeno 2-3 ore a 21-22 gradi. L'impasto deve sviluppare veramente tanto, in maniera tale che possa poi continuare a sviluppare e a crescere anche all'interno del ruoto e una volta che ha raddoppiato o triplicato il suo volume andiamo a fare quella che è la stesura del nostro panetto da mettere all'interno del ruoto e poi andare con la farcitura, chiusura del nostro casatiello e l'ultima lievitazione. Preparato il nostro panetto per il casatiello andiamo a dargli una prima stesura anche utilizzando le mani così non per forza dobbiamo utilizzare il mattarello all'inizio andiamo a pigiare in questa maniera l'importante è che non andiamo a rovinare la superficie dell'impasto lo giriamo più volte una volta steso il nostro panetto in questa maniera come vedete la maglia non è stata rovinata andiamo a mettere il pecorino così poi io mi sono già preparato il nostro salame napoletano e altri salumi che andrò a mettere all'interno per farlo un pochino più ricco per farlo un pochino più ricco e abbondante quindi cominciamo a mettere i nostri ingredienti su tutto il casatiello ovviamente a scelta decidiamo pure quante metterne gli ingredienti ci sono Grazie a tutti. Una cosa importante che volevo dire, ho fatto il condimento del casatiello con del pepe nero prima, con tutti i salumi, per poi aggiungerli. Non vado a mettere il pepe nero all'esterno, ma lo sono andato a mettere già sui salumi che utilizzeremo per la farcia. Così, perfetto. Ok. Fatto questo, mi preparo bene il mio impasto così e vado alla chiusura, piegandolo così, come se fosse una pergamena. Guardate che impasto bello, plastico, non si rompe e questo è molto importante. Lascio sempre una parte per la chiusura qui in esterno. Ok? Mi servirà per sigillare bene il casatiello. Vedete, l'impasto quando è fatto bene non si rompe e questo è molto importante. E una buona farina ci permetterà di evitare che si possa rompere l'impasto. Ok? Sigillo bene dalle due parti e stringo un pochettino, così. Per non cercare di avere spazi con aria, stringo un pochettino e sigillo. L'impasto non si è strappato per niente, questo è un ottimo segno. Prendo il mio stampo, diametro 29. Infatti una cosa che volevo dirvi è che del quantitativo utilizzato della ricetta, una volta ottenuto l'impasto finale, ho utilizzato la metà di quello appunto del totale. Ok. Fatto questo, posiziono il mio canetto. Se vediamo questa parte che non arriva a toccare, se l'impasto è fatto bene, come potete vedere, lo possiamo riportare giù e continuare a lavorarlo un pochettino per completare, anche per pareggiare tutti gli ingredienti all'interno, così, delicatamente. E ritorno per completare il mio casatiello. Completare la chiusura. Vedete? L'ho allungato un pochettino e sono arrivato. In questo momento io vado giusto un pochettino a schiacciare per comparare gli spazi. Qui, che è la parte della chiusura, vado a sigillare così. Ok. Comparo schiacciando un pochettino. E qui abbiamo il nostro casatiello. Andiamo a mettere le uova. Dopo aver lavato le nostre uova, bene, mi raccomando, le andiamo a posizionare sul nostro casatiello. Così. Ok? Senza pressare troppo. Un po' di pasta avanzata per fare la nostra chiusura. Se la pasta non dovesse attaccare bene sulla superficie, potete bagnare con un pochettino d'acqua per aiutare l'attaccare della pasta. Così. L'aderenza alla pasta, così. Ok? Guardate che bello. Posizioniamo giusto bene qui. Guardate che spettacolo. Che bello. Lasciamo lievitare per due ore a 22 gradi prima di andare poi alla cottura. Quindi ci vediamo dopo. Dopo aver sistemato le uova sulla superficie del nostro casatiello, siamo pronti per passare all'ultima lievitazione prima della cottura. Un'ora e mezza a 22 gradi. Aspettiamo giusto che raddoppi leggermente il volume e poi passeremo alla cottura. Questo è il mio casatiello preparato con la ricetta detta già all'inizio del video, con un piccolo pezzo di pasta madre nell'impasto. Guardate che risultato spettacolare. Donatura, omogenea e perfetta. Quando uno è ormai già, la!? Germanea aroundprechen. È usata che risultato spettacolare. Orata a tutti.